In arrivo i contributi annuali per le tv locali. Anche per il 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la 213 del 13 settembre il bando per formalizzare le richieste. Le domande dovranno essere presentate entro il 13 ottobre al Corecom Basilicata, a mezzo Raccomandata, oppure via fax allo 0971 44 71 90. I comitati regionali per le comunicazioni provvederanno ad accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti e dentro 90 giorni dalla pubblicazione del bando a predisporre le graduatorie che saranno comunicate al Ministero entro 30 giorni dalla loro approvazione. Sarà poi il Ministero a provvedere all'erogazione dei contributi nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale. Maggiori informazioni le si possono attingere contattando il numero 0971 44 70 88.